Benvenuti a un nuovo appuntamento con le previsioni 3b meteo per Telemistretta. Come ampiamente previsto, con questa terza decada del mese di novembre si è aperta la stagione delle piogge anche in Sicilia. Precipiazioni come nelle attese, soprattutto sulle aree orientali, si sono concentrati maggiori accumuli plummetrici, come si emince da questa mappa, quindi 50-60 mm sono caduti sulle aree orientali dell'isola, ma anche sul palermitano. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Dobbiamo prepararci alla prima vera intensa ondata di freddo dai stapori tipicamente invernali, infatti nella giornata di sabato giungeranno forti e freddi venti di tramontana che daranno luogo a un sensibile abbassamento delle temperature attesa a nuvolosità soprattutto sui settori settentrionali ed orientali e deboli nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo direi intorno ai 1300 metri di quota su Madonie, Nebrodi e sull'Etna. Poi nella giornata di domenica questo nucleo di aria fredda si allontanerà, ci sarà ancora della residua nuvolosità sul settore tirenico ma senza precipitazioni associate, nuvolosità che poi invece aumenterà in serata fra Trapanese e Palermitano. E il preludio ad una giornata di lunedì che si annuncia nuvolosa su tutta l'isola, con venti che si disporranno dai quadranti sud-occidentali, dunque venti di libeccio che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata, quindi temperature in temporaneamento, è la parte avanzata poi di una perturbazione che giungerà martedì, dunque la prossima settimana parte la pausa di lunedì, nella giornata di martedì giungeranno nuove precipitazioni, poi nuova pausa e a seguire probabilmente una nuova fredda perturbazione alle porte sul Mediterraneo giungerà intorno ai primi giorni di decennio. Ma per maggiori informazioni sulla vostra singola località vi raccomando di consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.